Benvenuti ragazzi o bentornati sul mio canale, sono Divix. Inizio questo video, che ovviamente non è un video allegro, dicendovi una cosa importante. Prima di questa partita non mi aspettavo mai che l'Inter potesse passare questo turno. E lo dico adesso, non lo dico quando abbiamo pescato il Liverpool, perché ovviamente l'Inter oggi si trova in un momento di forma diverso da quando abbiamo fatto il sorteggio e il Liverpool oggi si trova in un momento di forma diverso da quando è stato fatto questo sorteggio. Il Liverpool ha riacquisito morale a recuperare tutti i giocatori titolari e quindi arrivava in questo momento al top. L'Inter invece, al contrario, arriva in questo momento nel peggior stato di forma della stagione. Per questo motivo ero abbastanza, diciamo, scettico. Mai, però, mi sarei aspettato di vedere giocare da parte dell'Inter una partita come quella di stasera. Una partita dove, fino al settantesimo, non c'è stato niente da dire a nessuno, veramente a nessuno. Avrei potuto elogiare tutti a partire dalla difesa, perché sono stati annullati praticamente Salah e Manet, anche se poi Salah ha segnato un tiro deviato. Alexander, Arnold e Robertson sono stati annullati da Persic e Dumfries, che hanno arato la fascia. Pertanto un'altra volta parliamo di grandi, grandissimi rimpianti da parte di questa squadra. Rimpianti che poi ogni volta vengono riversati sull'attacco dell'Inter. Perché tutti quanti continuamente continuiamo a dire che l'Inter è in questo stato di forma perché le punte non segnano tanti gol. Dall'altra parte, io vi dico la mia opinione, che è diversa da questa. Nel senso, sì, le punte non segnano tanti gol, però l'Inter quest'anno deve fare un mea culpa generale perché se andiamo a guardare gli scontri diretti, quest'anno l'Inter, gli scontri diretti, ne ha vinto uno contro il Napoli. Basta, stop. Siamo a metà febbraio. Abbiamo fatto anche un primo turno di Champions League, perso 2-0. E quindi se tu in sei mesi vinci uno scontro contro i tuoi rivali pretendenti, diretti e concorrenti per i tuoi obiettivi stagionali, vuol dire che c'è un problema. E il problema non è il bel gioco, il problema non è le punte che non segnano, il problema non è in zaghi sbagli e cambi, il problema è un altro. È uno e uno solo. E io oggi lo ridico, perché l'avevo detto in inizio stagione, però non è questione di ve l'avevo detto prima, ve l'avevo detto dopo. Cioè, analizziamo il presente. Il problema dell'Inter è uno solo. All'Inter manca qualità. Adesso qualcuno starà saltando dalla sedia, vi spiego meglio questa affermazione. L'Inter ha costruito in questi anni, soprattutto nel recente periodo, una squadra che punta tutto sulla fisicità. Grande, grandissima fisicità. Da parte di tutti i giocatori. Tutti i giocatori sono alti, grossi, giocatori che corrono tanto, che hanno grandissima capacità fisica e hanno qualità. Sì, certo, non è che vi vengo a dire Brozovic non ha qualità, Barella non ha qualità, Bastoni non ha qualità, certamente. Ma quando io parlo di qualità, parlo di giocatori che in questi incontri, negli scontri diretti contro le tue pretendenti, contro squadre di pari livello, facciano la differenza e cioè possano inventarsi una giocata vincente tale che ti possa far vincere la gara. Giocatori di questo tipo, l'anno scorso, ne avevamo tre in rosa. Il primo era Kimi, che come tanti mi hanno scritto era un giocatore che magari tutta la partita sbagliava, poi faceva uno scatto, saltava due uomini, tiro, gol. Il secondo era il signor Romero Lukaku, era un giocatore che in partite come queste prendeva palla da centrocampo, mi ricordo il derby l'anno scorso, arrivava in porta e la scagliava dentro la rete. Ad aggiungersi a questi giocatori c'era un altro ragazzo che poi, nella seconda metà è entrato titolare, poi per sfortuna è andato via dall'Inter, che si chiama Christian Eriksen. Non è che i giocatori che sono arrivati sono più scarsi. Non sto dicendo l'Inter ha preso giocatori più scarsi, quindi siamo più scarsi. No, l'Inter ha preso giocatori, ad esempio Cialanoglu a me piace tantissimo, il Simonin Zaki l'ha trasformato in un centrocampista, anche questa sera a me è piaciuto tantissimo Cialanoglu, tantissimo. Però Cialanoglu non è il giocatore che prende palla, salta tre uomini. Dumfries non è Hakimi, Dumfries sta facendo bene, è entrato veramente bene in questa squadra, finalmente lo vedo, è utile, ma non è Hakimi. Non ti farà mai la differenza con Hakimi, non ti farà mai quelle giocate che spaccano le partite come fa Hakimi. Cieco è un finalizzatore, è un grandissimo attaccante, ma non è Lukaku. Se guardiamo tutte le altre squadre, le big squadre in Europa, tutte le grandi squadre in Europa, hanno in rosa giocatori fisici, giocatori di livello, giocatori di corsa, ma anche giocatori di grandissima qualità. E quando parlo di giocatori di grandissima qualità, intendo giocatori veramente in grado di farti la differenza con la palla tra i piedi. E chi è che fa la differenza con la palla tra i piedi nell'Inter? Il miglior giocatore con la palla tra i piedi nell'Inter in questo momento è Ivan Perisic. Ma Ivan Perisic non è che è Mbappé. Cioè se voi avete visto ieri la partita fra Real Madrid e Paris Saint-Germain, prima della partita ho visto la dichiarazione di Carragher sulla tv inglese che diceva il Paris Saint-Germain non vincerà mai la Champions League perché ha tre giocatori che non fanno nulla per la squadra. Sono Mbappé, Neymar e Messi, che stanno lì davanti e aspettano la palla. Sì, sì, d'accordo. Su questa affermazione sono d'accordo che sono tre giocatori che aspettano la palla. Però avete visto ieri la partita fra Paris Saint-Germain e Real Madrid. Real Madrid è stato 90 minuti dietro la linea della palla, ad aspettare i partiti in contropiede. Quando hai qualità e quando hai la palla fra i piedi, poi ragazzi il calcio è questo. Il problema dell'Inter, e secondo me è quello che deve guardare per l'anno prossimo, è aggiungere giocatori che in queste partite, nelle grandi partite, abbiano la capacità di inventare. Perché poi Firmino si inventa un gol dal nulla, dal nulla. Poi a Liverpool gli è andata bene stasera perché oggettivamente erano fuori forma Salah, fuori forma Mané. E secondo me anche per merito dei nostri difensori, dico sinceramente, ma Liverpool è pieno di qualità. Non possiamo pensare di competere a queste competizioni senza avere in rosa, in squadra, la qualità tale che ci permetta di vincere gli scontri diretti. Perché gli scontri diretti tra squadre di pari livello non si vincono giocando meglio. Non si vincono avendo il maggior possesso palla, ma si vincono con i grandi giocatori. Purtroppo il calcio è così ragazzi, il calcio è così. È logico che se hai grandi giocatori, tutte le squadre, chi gioca meglio è più facile che la vinca. Io non mi sento in dare la colpa a Dzeko, a Lautaro, a Sanchez. L'Inter produce calcio, sì, l'Inter produce calcio. Poi gli altri, caso strano però, ricordate la partita contro Real Madrid, dal limite dell'area di rigore, tiro, gol sotto l'incrocio. Toni Kroos prende palla, tiro, gol all'angolino. Il campione è quello, quella è la qualità. Quella è la differenza fra avere una squadra che sono tutti bravi, sono tutti coesi, giocano bene a calcio, ma poi devono arrivare davanti alla porta, con la palla fra i piedi, ci devono arrivare 4, 5, 6, 7 volte per fare gol. Gli altri non devono arrivare davanti alla porta, gli basta che uno dei loro campioni prenda palla, fa una giocata, fa gol. Punto. Io mi sento di fare complimenti a questi ragazzi, perché comunque secondo me hanno fatto una grandissima gara, ci hanno messo veramente tutti il massimo impegno, e se fosse per me non dare l'insufficienza a nessuno, nessuno, non parlo neanche dell'allenatore, dei cambi, non mi frega, perché io questa sera comunque esco triste, ma con un sorriso sulla bocca, perché ho capito che abbiamo una squadra vera. Quello che mi spiace è che sicuramente a livello morale questa è una botta difficile, in un momento difficile, quindi l'Inter ha bisogno di rialzarsi in fretta, e ha bisogno di tirare una boccata d'aria, di prendere ossigeno, di ripartire, perché questa squadra secondo me ha tanto ancora da dare, ha tanto ancora da dare e questi ragazzi hanno tantissima, tantissima voglia. Sicuramente io non mi tiro indietro, non sputo su questa squadra che secondo me sta facendo un grandissimo campionato, e soprattutto non sputo su una squadra che ancora oggi ci ha dimostrato di essere una grande squadra, perché due anni fa, tre anni fa, l'Inter contro il Liverpool avrebbe passato 90 minuti chiusa dentro l'area di rigore, senza far un tiro in porta, magari avremmo perso 1-0, magari avremmo fatto anche 0-0, ma con la consapevolezza di essere una squadra inferiore al Liverpool. Io oggi questa consapevolezza non ce l'ho, sinceramente, non mi sento così tanto inferiore, mi sento una squadra che ha bisogno, però, come vi ho detto prima, di qualità, ma di qualità calcistica, che ci faccia anche un pochino sognare. Quella veramente ci manca e ci manca come il pane. Questa è la mia opinione, scrivetemi qua sotto la vostra, leggo i commenti, noi ci vediamo al prossimo video, se vi piace l'Inter ovviamente, iscrivetevi, ciao ragazzi!